bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed è il primo video di una nuova serie allora nuova serie che consiste nella carriera giocatore naturalmente perchè ci mancava dallo scorso anno perchè vi avevo promesso che l'avrei rifatta qualcuno nei commentini molto in privato invece di spoilerarlo nella pagina facebook che trovate qua sotto in descrizione quindi diventate fan così almeno cresce anche un po' più la pagina facebook allora ero molto ma molto adesivo su cui no con cui iniziare perchè comunque comincio con me stesso creando il giocatore come lo scorso anno ma in che squadra cominciare dato che è in italia e sta facendo già la carriera io ho pensato al city andare a giocare al city per comunque giocare insieme ad agguero oppure prendere le orme di cioè giocare sulle orme di agguero magari un attacco tra un paio di anni agguero e con dispo sarebbe il top direi allora ci chiede di creare il nuovo giocatore usare il giocatore reale naturalmente creiamo il nuovo giocatore faccio tutto molto velocemente allora comunque volevo dirvi che questo qua sarà una serie alternativa alle due perchè comunque il ruttuglory non sta avendo il non grandissimo successo perchè comunque è seguito tutto ma è molto meno seguito della carriera e capisco anche il motivo perchè comunque è una cosa che a me è una carriera strapiace e forse sono anche invogliato a farla meglio che è fare il ruttuglory che io a ultimate team non gioco quasi mai perchè tra tutti i bug e il resto io non dico che inizio a non sopportarlo ma dopo un po' mi stufo veramente tanto quindi sarà alternativa alla carriera ruttuglory però se vedo che questi video della carriera giocatore hanno un bel po' di successo io sono disponibile ve lo prometto non dico di smettere il ruttuglory e puntare solo sulla carriera e la carriera giocatore la carriera allenatore è la carriera giocatore ma sono disponibile a fare molti più video di questi facciamo così in base ai mi piace non so vi farò così faccio il video ok alla fine del video dico ho un tot di mi piace tipo a 500 mi piace prossimo episodio quando arrivo ai 500 io tac 9 episodi poi nel secondo episodio dico 600 tac terzo episodio avete capito più o meno come faremo volevo scaricare e applicare il game face solo che è un casino perchè c'è da farlo veramente veramente bene solo che io non riesco quindi sistemiamo adesso anche l'aspetto fisico del giocatore non l'aspetto fisico ma l'aspetto eh barba voglio la barba 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 incolta colore barba no nera poi si è lunghezza capelli eh medi vediamo se c'è qualcosa di carino moicano girati ruotati non mi piace moltissimo trovo i capelli giusti e ci sentiamo tra un secondo un attimo allora capelli scelti quindi questo qua sarà il nostro look adesso andiamo a sistemare altre cose lo sistemo molto rapidamente perchè secondo me se no il video diventa troppo lungo per un video iniziale quindi faccio tutto io e poi vi faccio vedere com'è vengo allora eccomi qua non sarò proprio identico però ho fatto più o meno i capelli com'è dovrei tagliarli tra poco poi in faccia più o meno simile la carnagione è un po' strana perchè sembra che ho le braccia bianche che è il corpo scuro come il mio però boh e allora 1.82-80 kg in medio destro va benissimo dobbiamo scegliere qua attaccante si che bello che sono in porta no sto scherzando allora attaccante centro sinistra destra centro torre fantasista realizzatore non so dovreste scegliere tra fantasista e realizzatore allora col torre vediamo testa 55 fantasista 60 no 54 e realizzatore 62 io direi realizzatore ok vediamo premiamo opzioni avanti ok la squadra Manchester City acquista un nuovo giocatore e che siamo noi con Dispa è l'ultimo e più provatente acquista la formazione Manchester City quest'anno con tutti gli occhi puntati addosso che ci si chiede se il 19 attaccante sarà capace di non dare le aspettative e ci riusciremo pam 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 eccomi qua numero 9 siamo qua l'inquadratura più o meno identica cioè da FIFA 14 a FIFA 15 non è cambiata assolutamente niente e io volevo dirvi che allora guardiamo i nostri obiettivi stagionali prima allora valutazione media 6,6 segnare almeno 9 gol e fornire almeno 5 assist e mantenere una percentuale di realizzazione di almeno dell'11% cosa non fattibile comunque giocando col City comunque noi andiamo avanti perché arriveranno delle offerte naturalmente io vi farò una domanda che comunque ho fatto già nel primo episodio dell'anno scorso della carriera del giocatore cioè se è quella di rimanere al City allora un attimo se è che il momento ti prendi tutti per la scuola ma in qualità il tuo agente ti ricorda che puoi essere convocato alla nazionale fondamentale per continuare a crescere come giocatore e diventare una leggenda se hai visto la speranza per la tua nazionale che ti terrà d'occhio sarà pure importante farà bene col tuo clan allora volevo dire avanziamo finché non arriva la prima offerta di presto perché arriverà sicuramente e vediamo e volevo aggiungere che vi lascerò alla fine del video naturalmente la domanda classica cioè rimaniamo e proviamo a farci le ossa qui al City oppure andiamo in prestito andiamo in prestito fuori cioè andiamo in prestito in qualche altra squadra per poi tornare non so non so non so voi cosa possiate pensare mi da fastidio che il mio nome Kundispa oddio ho sbagliato sia scritto un maiuscolo quindi molto probabilmente dal secondo episodio rifarò rifarò tutto da solo così da avere il nome in piccolo anche se è una buia cioè è una cazzata però mi piace aver tutto sistemato comunque non cambierà nulla perché non è ancora arrivata neanche un'offerta quindi io adesso vi lascio qua so che è un episodio molto introduttivo però avete visto qual è la mia idea cioè giocare nel City per giocare con Aguero per magari formare una coppia Kun Kun cioè siccome è tanta roba però per far questo per iniziare a giocare con Aguero titolare dovremmo avere sicuramente tanta esperienza quindi la mia idea sarebbe anche quella di andare in presto magari in qualche squadra in serie B inglese secondo me non sarebbe niente male scusate quindi vi ripeto che dato che non sono arrivato a offerta molto probabilmente ricomincerò resetterò tutto per cambiare il nome per averlo come gli altri farò più o meno provare a farlo uguale come mi ero fatto il resto è tutto vi chiedo di arrivare almeno a 800 mi piace per continuare questa carriera giocatore che a voi tutti piace noi ci vediamo quando arriveranno gli 800 mi piace se vi va commentate il video rispondendo alla domanda se rimanere qua o andare in prestito condividete il video aggiungete il preferito noi ci vediamo al prossimo video ma prima iscrivetevi al canale bella ciao